Disclaimer, questo video, questo singolo video, è un vero corso di marketing. Nel giro di 20 minuti ti posso assicurare che riuscirai ad acquisire delle competenze strategiche e una vision sul marketing che difficilmente si riesce ad acquisire da altre parti. Cioè, i contenuti che ti sto per dare in questo video sono di altissimo livello. Doveva essere un video in cui recensivo un libro e invece è diventata una lezione di marketing straordinaria. Me lo dico da solo, grande Dario, con una pacca sulla spalla. E quindi partiamo subito con il video. Ciao amici, volevo dare via a un nuovo format sul mio canale YouTube che si chiamerà Dario Vignali Book Club. Un po' come Oprah, Dario Vignali is the new Oprah. A parte gli scherzi, per chi non mi conoscesse, sono un imprenditore digitale, fondatore di Marketers che ha la più grande community d'Italia per imprenditori digitali. E in questo video vi voglio raccontare come sia possibile costruire un prodotto che venda per sempre. Un prodotto straordinario. E io penso che la preoccupazione numero uno di qualsiasi imprenditore sia avere la capacità di costruire un prodotto capace di vendersi da solo. Pensateci bene un attimo, no? Che voi siate influencer, content creator, aspiranti d'Italia, imprenditori, direttori di marketing di una grande multinazionale. Penso che il prodotto sia lo strumento più importante. Il prodotto sia il prodotto più importante. E sapete perché? Perché la maggior parte degli YouTuber famosi diventano famosi per il loro format. È il format di successo che rende lo YouTuber di successo. Non è lo YouTuber di successo che rende famoso il format, ma viceversa. Un'azienda non rende il proprio prodotto famoso, ma è il prodotto famoso che rende famosa l'azienda. Non so se riuscite a capire il concetto. Apple, Nike e tante altre società hanno bisogno meno di altre aziende di fare marketing. E sapete perché? Perché il marketing lo fa il prodotto. È la qualità dei loro prodotti che racconta la virtù dell'azienda. E questa frase, che mi è venuta così da nulla, scriviamocelo. Se siamo capaci di costruire dei prodotti giusti per le persone giuste, che risolvono un problema che ancora non risolve nessuno, avremo bisogno di fare meno marketing. O meglio, se faremo marketing, avremo un potere di fuoco a parità di investimento maggiore di chiunque altro. Ed è per questo che quando ho dato vita alla mia azienda Marketers, mi sono concentrato nel voler costruire un'istituzione. Cioè, non è che volevo semplicemente guadagnare, non volevo avere un risultato economico, non volevo fare il tipico corsetto che vendi per metterti in tasca dei soldi. Volevo costruire un ecosistema. Un ecosistema per le persone giuste, per le persone come me, e costruire dei corsi di talmente alto valore che fossero famosi nel mercato. E non a caso abbiamo costruito Facebook Advance, che è il corso più venduto d'Italia riguardo al Facebook Advertising, Copy Mastery, che è il corso più venduto d'Italia nel copywriting, Instagram File, che è il corso più famoso d'Italia e più venduto, ormai con più di 20.000 vendite, per crescere su Instagram. E vanno dei numeri da paura. E il marketing di questi prodotti ormai è basso, perché ci impegniamo su nuove cose. Quindi il concetto è impegnarsi tanto a fare il prodotto giusto, in modo tale che il prodotto continua a vendere, senza che noi dobbiamo impegnarci così tanto a promuovere quello che è il prodotto. Oggi vi presento questo libro, Il successo perenne di Ryan Holiday. Molto carino, lettura semplicissima e veloce, e parla proprio di questo, di come sia possibile costruire un prodotto che venda per sempre e porti in alto il valore dell'azienda e del suo brand. E allora oggi volevo commentare un po' quello che dice Ryan Holiday. È un libro piuttosto semplice. Molte delle cose che ho letto le conoscevo già, però voglio parlarvene, perché magari non le conoscete, e soprattutto portare un po' quella che è la mia esperienza sul campo. Come potete vedere, quando leggo un libro, io mi faccio praticamente uno schema. A inizio libro, prima pagina, dove metto il numero della pagina dove ho letto un concetto importante, e poi mi vado a fare l'annotazione di che cosa riguarda quel concetto. In questo modo io praticamente, leggendo solamente la prima pagina riesco a recuperare tutte le informazioni del libro, perché non ho bisogno veramente poi di andare a leggere quello che c'è scritto in quella pagina. Appena leggo la frase, recupero le informazioni della mente, e questa cosa è molto utile per fare un video del genere, o per ritrovare quella strategia che stavi leggendo. Chiusa la parentesi sulla lettura, ho fatto un video molto importante sul mio canale, su come leggo, quali sono le mie strategie di lettura, e vi consiglio di andarvelo a vedere, perché ci ho messo veramente tanto dentro. Nel frattempo, pagina 23, Ryan Holiday introduce il libro e dice che praticamente creare un classico, costruire un prodotto che diventi un classico, è più importante di qualsiasi altra strategia di marketing, o operazione che deve essere intrapresa da un'azienda, un imprenditore, un freelancer, eccetera, eccetera. Il prodotto viene prima di qualsiasi cosa, la qualità di prodotto viene prima di qualsiasi cosa, e cosa che io insegno sempre all'interno dei miei corsi, il prodotto è più importante della comunicazione, la comunicazione è più importante del marketing, il marketing è più importante di tante altre cose, ok? Perché il prodotto è più importante di tutti? Beh, perché se facciamo marketing su un prodotto che non è di qualità, invece di investire stiamo perdendo soldi, perché le persone compreranno il prodotto, ma non continueranno ad acquistare da noi, quindi stiamo perdendo il valore del singolo utente, del singolo cliente. Al contrario, se facciamo un prodotto straordinario, anche se abbiamo un marketing o una comunicazione che non è molto efficace, vivrà di passaparola, e il passaparola è il marketing più potente. Allo stesso modo ho detto che il prodotto è più importante della comunicazione, ma che la comunicazione è più importante del marketing, perché sapere tutte le strategie del marketing, ma avere una comunicazione errata, ovviamente ha un effetto controproducente. Se scriviamo un copy o una pubblicità che è errata, scriviamo qualcosa che in qualche modo non arriva alle menti delle persone, o al cuore delle persone, che cosa succede? Succede che fondamentalmente paghiamo per far vedere quel messaggio pubblicitario in giro, ma poi le persone non fanno click, non comprano. La comunicazione viene prima delle strategie di marketing, quindi prima imparo a fare il copy e a fare la giusta comunicazione, poi lo promuovo con l'advertising, con il funnel marketing, con la conversion optimization, eccetera, eccetera, eccetera. Partire dai fondamentali, prodotto, comunicazione, poi marketing e poi strategie di ottimizzazione. A pagina 33, bellissima citazione che anch'io ho ripreso più e più volte, di Jeff Bezos, che dice concentratevi sulle cose che non cambiano mai. Che cosa significa? Che se vi concentrate su qualcosa che cambia, lo dovete aggiornare, quindi avete dei costi di mantenimento molto alti. Se vi concentrate su un mercato che è molto veloce, che cosa succede? Che dovete essere veloci anche voi, e le cose cambiano velocemente. Dovete costruirvi un fattore critico di successo, un vantaggio competitivo che non cambia mai, e che non può essere replicato facilmente, o copiato e inserito nei modelli di business dei vostri competitor. Non è un caso che il mitico Warren Buffett, uno dei più grandi investitori del mondo, non abbia mai investito nella tecnologia o nella moda, ha sempre investito solamente nelle materie prime, e molto spesso nelle aziende che hanno a che vedere con il food and beverage, come Coca-Cola. Coca-Cola è un prodotto che non cambia mai, non ha bisogno di essere cambiato, innovato, è un classico. E ricordiamoci che questo libro insegna come costruire i classici, e noi tutti dovremmo chiederci come posso costruire un prodotto che possa diventare un classico, che non cambia. Questa cosa, secondo me, va riportata anche nel personal brand, e nel posizionamento professionale. Vedo tante persone che decidono di diventare esperte di Facebook advertising, o diventare esperte di qualche altra piattaforma, come Instagram o come TikTok. Il più grande esperto in Italia di Snapchat. Dov'è finito Snapchat, no? Pensate quanto lavoro c'è dietro un personal brand, un personaggio, un esperto, che cerca di posizionarsi come esperto per un argomento, per un software, per un tool. E poi questo tool perde il trend. Questo tool sparisce, questa piattaforma cambia, e improvvisamente noi cambiamo con lei, oppure spariamo con lei, che è la cosa ovviamente peggiore che può succedere, no? Quindi cerchiamo di costruirci una competenza, un posizionamento, e quindi anche un prodotto, un servizio, che non debba cambiare. Pagina 43. Prima di costruire un prodotto, crea un MVP, e raccogli quanti più feedback possibili. Che cosa significa? Significa che prima di stare impazziti, investire una montagna di soldi, e mettere tutto il perfezionismo possibile e immaginabile, sullo sviluppo di un prodotto, che non sappiamo se può andare, dobbiamo sviluppare una versione grezza, una versione minima, una versione ridimensionata, molto piccola, l'MBP, Minimum Weable Product, quindi il prodotto più piccolo e funzionale, che possiamo sviluppare. Quindi investendo il meno possibile, costruiamo qualcosa, che è la versione grezza, beta, neanche beta alpha, ok? o beta di quello che è il nostro prodotto, e lo facciamo testare a quante più persone rilevanti, con il nostro prodotto. Quindi non per forza gli amici, ma persone che potrebbero essere in target, e gli diciamo, cosa ne pensi di questa idea? Provalo, funziona, ti piace? Ha senso che ci lavoro? Perché tante persone investono montagne di soldi, nello sviluppo di qualcosa, che non sanno, in partenza, se funzionerà. Tante persone, ad esempio, parlando di cose un po' più terra terra, aprono un ristorante, in una zona della città, senza sapere se effettivamente, quella zona della città, porta un vantaggio competitivo. Non cercano di pensare, quante persone passano, su quel marciapiede, ogni settimana, ogni mese. Qual è il potenziale valore, di questo ristorante, già nel momento in cui apriremo? Perché sappiamo che già centinaia di persone, ogni giorno ci passano davanti, e possono entrare. E ovviamente il valore sarà molto basso, se nessuno passa in quella zona, o in quella via. Sono ragionamenti, che possono sembrare semplici, ma sono fondamentali, e tante persone non se li chiedono. Pagina 46, devi sapere per chi è, e per chi non è, il tuo prodotto. Questa cosa è importante. Tante persone costruiscono un prodotto, convinti che avrà successo, e non si chiedono, chi è il cliente, di questo prodotto. Chi è la persona, che dovrebbe comprare questo prodotto? E la risposta non può essere tutti, perché un prodotto che è per tutti, non è per nessuno. Dobbiamo immaginarci, qual è la target audience, e se quella target audience, esiste nel nostro paese, nella nostra specifica lingua, se veramente il prodotto è rilevante, se risponde a un problema, che veramente corrisponde a un problema, a una specifica domanda, no? La legge economica dice che il mercato funziona sulla legge della domanda e dell'offerta. Ci sono tante persone che costruiscono offerta, senza chiedersi se c'è una domanda, e soprattutto chi è che pone quella domanda. Avere chiaro, per chi stai facendo questo prodotto, ti aiuta ad abbassare le spese di marketing, perché invece di testare, a cazzo, dove è andare a spendere in advertising, su una mola incredibile di persone, vai a spendere per raggiungere le persone, che sai già che sono in target, e vogliono comprare il tuo prodotto. Pagina 49, risolvete un problema eterno, e costruirete un prodotto eterno. Bellissima! Bellissima! Costruite un prodotto che risolva un problema eterno, e costruirete un prodotto eterno, che venda eternamente. Che cosa significa? Che ci sono dei problemi che rimangono, ci sono dei problemi che appartengono alla dimensione umana, ci sono dei problemi che sono intrinsechi nella natura umana dell'uomo, e se costruiamo dei prodotti che risolvono questi problemi, ok, avremo la possibilità di vendere per sempre. E qui torniamo alla frase di prima, concentrati su ciò che non cambia. E allora se un problema rimane per sempre, possiamo produrre un prodotto che continueremo a produrre per sempre, e raggiungeremo magari la cosiddetta economia di scala. Quindi produrremo talmente tanto, che si abbasseranno anche i costi. Pagina 52, le opere più originali non creano nuovo, ma raccontano qualcosa che non è mai stato detto prima. Cerca il non detto, quel problema, quella richiesta nelle menti delle persone, che già esiste. Quindi non è nuovo, non ti stai inventando niente, il problema esiste già. Ma stai praticamente andando a raccontare al mondo qualcosa di nuovo che va a risolvere un problema che esiste già. Anche questo sembra scontato, ma vi giuro che per alcuni imprenditori non lo è, non entrate in un mercato dove il leader ha già un tasso di soddisfazione del 90%. Non pensate di migliorare il suo prodotto. Se c'è già qualcuno che fa quella cosa e lo fa dannatamente bene, con un tasso di soddisfazione altissimo, è inutile voler arrivare secondi o terzi. Secondi ha ancora senso, sono un po' in contrasto con quello che dice. Vero, se costruirete Pepsi, non costruirete mai Coca-Cola, ma Pepsi, essendo seconda in un mercato così grande, è una società che guadagna tanto. Si può essere in un certo senso secondi a senso, ma in un mercato delle cole non ci entrerei ad esempio ad oggi. Pagina 54. La migliore arte divide il pubblico. Rick Rubin. Wow. Questa frase è immensa. Che cosa significa? Significa che dovete fare un prodotto che polarizza, un prodotto che piace da morire ad alcune persone e che non piace ad altre. Deve essere un prodotto talmente pensato, su misura per alcune persone, che risponde a un problema così specifico, che ad altre invece non gliene frega niente. Quando fate un prodotto che ha una parte di pubblico, che lo odia, o che magari non gliene frega niente, state costruendo un prodotto straordinario, però, per coloro che ne hanno veramente bisogno. E quindi il carisma, l'identità del vostro prodotto, è alto. Funziona. E alla pagina 69 viene citato Hemingway. La prima bozza è sempre una merda. Che cosa significa? Significa non preoccupatevi se il vostro MVP, il primo prodotto che andate a realizzare, non è perfetto. Vi racconto questa piccola parentesi. Quando ho fatto il mio primo infoprodotto, io sono nato in realtà facendo consulenza, non nato, cioè diciamo, mi sono forgiato professionalmente facendo consulenza nel marketing e a un certo punto sul mio blog, dariovignali.net, tantissime persone continuavano a chiedermi Dario, fai un corso di marketing. Vendici un corso di marketing. E io, che dovete sapere che sono una persona che segue molto l'etica, ha paura, mette in discussione tutto ciò che vuole fare, eccetera, ed è anche molto perfezionista, ho sempre rimandato per anni l'idea di fare un corso. Non l'ho fatto, per tre anni, al terzo anno l'ho fatto, e lì il mio blog è passato da fare 800 euro al mese di pubblicità a fare 7000 euro al mese con la vendita del corso. Ed è stato un momento, ragazzi, straordinario, no? Di riflessione e interiorizzazione di questo insegnamento. Il problema è che per anni continuavo a registrare delle lezioni che non mi piacevano, ma anche perché è difficile piacersi quando si parla le prime volte davanti alla videocamera, e continuavo a dire no, non lo faccio, no, avevo la sindrome del cosiddetto impostore. Invece è sbagliato perché se fate un prodotto che ad alcune persone aiuta, quel prodotto ha senso di esistere. Poi, ovviamente, altri vi chiederanno il rimborso, lasciate la possibilità di avere il rimborso, in modo tale che se uno compra una cosa e dice no, questa cosa non mi piace, e voi restituite i soldi. Tutto lì, fatto. E in questo modo vi pulite anche la coscienza. Pagina 72. Nessuno crea boss migliori senza l'aiuto di qualcun altro. Che cosa significa? Che non potete avere la presunzione di pensare che la vostra idea sia perfetta. Perché voi siete uno, e per avere, diciamo, la risposta di tanti in termini di acquisti dovete anche capire che ognuno avrà problematiche o una visione diversa del vostro prodotto. Quindi è importante farlo provare a quante più persone possibili e ricevere quanti più feedback possibili. Pagina 78. Il miglior esercizio per individuare il posizionamento e il senso del proprio prodotto sul mercato. Questo è un puntini puntini che fa puntini puntini per puntini puntini. Che cosa significa? Questo prodotto è, descrivo il mio prodotto, che fa puntini puntini, descrivo che cosa fa, per puntini puntini, descrivo il pubblico che dovrebbe acquistare il mio prodotto. Se non ho chiara la risposta a queste domande, sono veramente fottuto. E soprattutto però se ho chiara la risposta a queste domande, ho uno strumento di marketing straordinario che si chiama brand positioning. Anche questo è molto bello, pagina 82. A volte puntare un piccolo pubblico vi farà raggiungere un pubblico più grande. Che cosa significa? Che se fate un prodotto identificato, molto forte, con un posizionamento forte su un certo target di persone, che ha un'identità forte, precisa, non è che è per tutti. Quindi fate una cosa mirata, posizionata, nicchiata per una nicchia specifica, inizia ad avere talmente tanto successo in quella nicchia che con il passo a parola inizia a raccogliere l'attenzione anche di persone che fino a ieri non erano interessate a quel prodotto o a quello specifico problema. Partire in piccolo anche a livello di identità e poi ingrandirsi. Facciamo un piccolo esempio. Ad oggi il corso di Facebook advertising più venduto d'Italia è di marketers. Decidere di fare un corso generalista può aver senso come può non aver senso. Ma la verità è che se uno va a cercare un corso di Facebook advertising e dice ok voglio scegliere un corso di Facebook advertising scopre marketers e vede un corso di Facebook advertising che è stato comprato da migliaia di persone. C'ha il 99% di feedback a momenti positivi e la gente è entusiasta e poi scopre che c'è un altro corso di Facebook advertising generalista realizzato da una persona che non è così conosciuta sul mercato come marketers non ha una community alle spalle non ha una lista email non ha una credibilità un'autorità così forte nel mercato. Ecco se quella persona invece di fare un corso di marketing generalista ipotizzando che la persona che sta cercando il corso di Facebook advertising c'ha un e-commerce avesse fatto il corso specifico di Facebook advertising per gli e-commerce avrebbe raccolto comunque una moltitudine di persone interessate ad un corso specifico per gli e-commerce oppure stanno cercando un corso di Facebook advertising per gli e-commerce e poi hanno visto Facebook advance e poi vedono quello per gli e-commerce e dicono ah ma questo è specifico per me e quindi comprano quello specifico ma partendo così in maniera specifica un po' più chiusa un po' più identificata con una nicchia possiamo diventare famosi in una nicchia più piccola e da lì possiamo poi iniziare ad allargarci e fare il corso di Facebook advertising per un altro prodotto un altro progetto un'altra categoria di persone e piano piano iniziamo a dominare la cosiddetta long tail no? Pagina 87 dalle 22 leggi immutabili del marketing un libro famosissimo che vi consiglio molto bello dice se non puoi essere il primo di una categoria di prodotto inventa la tua categoria e a proposito di questo ti consiglio il libro strategia Oceano Blu invece di andare a costruire quello che può essere un business in un mercato che è già pieno di concorrenza dove c'è è rosso è rosso di sangue dal combattimento tra i concorrenti per avere i clienti eccetera tu costruisci una nuova categoria vai in un nuovo mercato inventi un mercato che non esiste Red Bull che cosa ha fatto? Ha inventato una categoria ha inventato gli energy drink dove un tempo non esisteva questa categoria o perlomeno non esisteva ma erano prodotti poco famosi Red Bull invece di andare in competizione con una cola contro Coca Cola ha detto sai che c'è? Faccio un energy drink e da lì è nato il mercato degli energy drink Coca Cola ci ha provato ha fatto Barne non so se ve la conoscete Barne piuttosto famosa ha provato a combattere Red Bull ma Red Bull era già prima nella sua categoria e Barne non è mai riuscito a raggiungere la fama e ovviamente il fatturato di Red Bull questa cosa dovrebbe farci riflettere se non possiamo essere primi in un mercato costruiamo un nuovo mercato se non possiamo essere primi in una nicchia e costruiamo una nuova nicchia se sono una content creator fashion non posso più essere la fashion blogger più famosa d'Italia riguardo alla moda ma posso essere la fashion blogger di bikini più famosa ed essere specializzata sui bikini e tutti i brand che faranno bikini vorranno lavorare con me piuttosto che con quella generalista perché sono nicchiata e sono verticale su questo argomento pagina 90 5 elementi fondamentali per una pagina di vendita la cosiddetta landing page o sales page ci sono 5 blocchi fondamentali di copywriting primo blocco per chi è cioè per chi è questo prodotto secondo blocco per chi non è questo prodotto terzo blocco perché è speciale in che modo è diverso dagli altri 4 cosa farà questo prodotto per le persone che lo compreranno ossia cosa farà questo prodotto per te e 5 perché dovrebbe interessarti questi 5 blocchi di testo questi 5 copy nel mio canale trovate tanti video su copywriting studiatevi oppure ho fatto un corso che si chiama copy mastery questi 5 blocchi di testo sono la cosa più importante in assoluto per vendere un prodotto e la scrittura persuasiva e il copywriting sono l'altra metà del segreto della vendita pagina 104 e su questo sono completamente d'accordo l'ho sempre detto i CEO non devono quindi gli amministratori delegati non devono mai 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 delegare la visione del marketing che cos'è la visione del marketing l'imprenditore l'amministratore delegato non deve non deve fare il marketing non dico che l'amministratore delegato deve fare la strategia impiantare tutto quanto scegliere le persone eccetera ma deve avere la vision deve sapere qual è la strategia in che modo è composta deve vedere il puzzle non mettere assieme i pezzi deve vedere il puzzle immaginarsi come deve venire fuori il puzzle questa cosa è importante lo dico sempre quando faccio consulenza alle aziende agli imprenditori ho fatto un bellissimo corso che si chiama business genetics che spiega agli imprenditori come funziona il marketing oggi e come deve essere applicato e soprattutto penso che dia una buona dose di vision pagina 118 quanto costa alle persone scoprire il tuo prodotto ecco questa è una domanda super interessante e non banale quanto costa alle persone scoprire il tuo prodotto vedo frizione ovunque in un mondo iperveloce come quello odierno le persone non hanno tempo non hanno tempo da dedicare allo studio del tuo prodotto se fa per loro che cos'è come funziona non hanno tempo non hanno tempo di cercare qual è il prezzo non hanno tempo di andare nella pagina contact form contatti inserire i dati vogliono la live chat lì presente 24 ore su 24 poter scrivere chiedere interagire con l'azienda le persone devono vedere il prezzo istantaneamente devono trovarle risposte alle loro domande e ai loro dubbi alle loro obiezioni se no non comprano quindi in qualche modo chiedersi come posso abbassare abbattere la frizione all'acquisto come posso semplificare la vita alle persone che devono capire se il mio prodotto fa per loro in che modo posso velocizzare la comunicazione tra di loro e la mia azienda in modo tale da rispondere nel minor tempo possibile alle loro obiezioni perché la voglia di acquistare è istantanea è veloce arriva in fretta e va via in fretta devi riuscire a vendere e convertire la persona mentre è lì che è desiderosa di acquistare ma se gli lasci il tempo di trovare delle obiezioni e non trovare risposta veloce la persona se ne va salva il tuo prodotto tra i preferiti tra la lista delle cose da vedere in futuro e poi non lo guarderà mai più diciamocelo è già tanto che la salvi pagina 131 concetto straordinario pensa al pubblico del tuo pubblico in che modo può essere trasferibile la comunicazione del tuo prodotto i migliori venditori devono essere i tuoi clienti ma per metterli nelle condizioni di parlare del tuo prodotto e vendere il tuo prodotto la comunicazione del tuo prodotto deve essere trasferibile deve essere comprensibile è chiara e la persona deve essere messa nella condizione tale da poter andare da un amico e dire ah ho comprato questo prodotto è una figata fa questo la maggior parte dei prodotti sono difficili da raccontare quando un prodotto è difficile da raccontare è difficile che si generi il passaparola il passaparola è il marketing più potente ed è soprattutto il marketing che porta con sé il maggior tasso di conversione pagina 149 ha emessi i ragazzi il paid advertising a scarsissima efficacia questo non smetterò mai di dirlo è giusto fare ads ed è giusto fare advertising ed è giusto padroneggiare questi strumenti fin tanto che funzionano fin tanto che otteniamo un ROI ma il vero marketing è quello che sta in questo video il vero marketing è la capacità di costruire una comunicazione a un prodotto talmente forti che risuonano con un audience e che l'audience diventa orgogliosa di comprare i nostri prodotti e diventa orgogliosa di parlare dei nostri prodotti a tutto il mondo e guardate Apple e guardate quanti youtuber quante persone parlano di Apple quante persone recensiscono i loro prodotti e quanto poco Apple faccia marketing realmente quante poche ads faccia sui social media quanto poco è realmente attiva sui social media con i suoi canali e con questo ho detto tutto ci vediamo in un prossimo video iscriviti al canale segui il podcast e vai a leggere il blog darevignali.net ciao ragazzi ciao ciao ciao